Ciao a tutti, eccoci di nuovo qui. Oggi è martedì e siamo di nuovo insieme per commentare i video dei nostri VIP di Milano e su quello che hanno postato in questi ieri praticamente. E c'è stato un video spesa, un vlogmas e una live da parte di Davide. Bene, io salto a più e pari quello che riguarda la spesa, il video spesa, anche perché a me questa tipologia di video non piace sinceramente, anche fatto da altri youtuber, anche se a quanto pare invece è una delle più apprezzate. Però a me, a meno che non si parli del prodotto in maniera, che ne so, l'hai provato, mi dici guarda questo fatto in quella maniera è buono, oppure state attenti per dire di una pasta al tempo di cottura perché invece di 10 minuti ce ne vogliono 15. Cioè a meno che non mi si danno delle notizie sul prodotto, che non si limitino al buono, eccezionale e quant'altro, a me sinceramente non interessa. Ecco. Per quanto riguarda questa spesa, un utente ha chiesto, visto che era abbastanza consistente, un utente ha chiesto a Chiara quanto avevano speso e Chiara ha risposto che il prezzo era stato di 180 euro. Al che gli è stato detto che, insomma, per quel tipo di spesa, ripeto, era una spesa abbastanza, insomma, come si vede anche dalle immagini di copertina, abbastanza consistente e quindi non era più tanto. Però un altro utente ha fatto notare che loro questo tipo di spesa lo fanno molto spesso, di questa consistenza, e quindi sì, può essere che non sia, diciamo, troppo per, che ne so, un paio di settimane, però se tu vai al supermarket due volte, tre volte anche a settimana e spendi quella cifra, comincia a essere un costo abbastanza elevato. Secondo me poi loro non sanno neanche fare la spesa, nel senso che ci sarebbero, diciamo, dei tipi di prodotti che vanno acquistati giornalmente, altri prodotti che vanno acquistati settimanalmente, e via dicendo. Ci sono anche quei prodotti che possono essere prodotti per pulire, che possono essere prodotti per la casa, tipo scottex e quant'altro, che possono essere tranquillamente acquistati mensilmente, diciamo. E comunque, questo è quanto, io vorrei sapere voi come la fate la spesa, cioè, anche quando spendete, quanto spendete, non perché voglio entrare nei vostri affari, però così, per farci un'idea, per quanto mi riguarda, per esempio, io il pane e la frutta li compro giornalmente, anche perché, insomma, la frutta preferisco comprarla dai contadini, diciamo. La compro dai supermercati proprio quando non riesco a fare altrimenti. e poi, come ho detto, ci sono cose che compro settimanalmente, come possono essere il latte, la cosa per fare colazione, tipo le fette biscottate e quant'altro, e altre cose che le compro mensilmente. Voi come vi regolate? E, insomma, andiamo al secondo video di Chiara, un blogmas. Praticamente, ci fa vedere parte della sua casa, e ci dice, praticamente, ci fa vedere l'angolo dove ha posizionato il tavolo, che lei ha tenuto a dire due o tre volte che, praticamente, è costicchiato abbastanza questo tavolo. Io, per curiosità, sono andata a vedermi, insomma, quanto è effettivamente costato. Ricordo che l'hanno comprato ad Ikea e, praticamente, questo tavolo è costato 299 euro. Quindi, voglio dire, neanche tanto, considerando che sono riusciti a spendere in una sera, diciamo, 250 euro soltanto per gli ornamenti di Natale. Cosa ho notato? Per quanto mi riguarda, non è stata una scelta felice quella del tavolo rotondo, perché, perlomeno come si vede ora, è un po' sacrificato, così dove l'hanno messo. Così come sono sacrificate le sedie che ha comprato, perché, secondo me, rispetto al tavolo, risultano un pochino troppo grandi. Per non parlare, poi, del colore, che può essere bello, quanto vi pare, però, per quanto mi riguarda, io il rosa non è un colore che amo, assolutamente. Soprattutto negli arredi, mai, mai, mai comprerei un arredo rosa. Ciò non significa che non sia una cosa carina, però, ecco, secondo me, come ho già detto, bisognerebbe avere degli spazi, bisognerebbe avere degli arredi un po' particolari, perché se hai una casa che non valorizza questi mobili, diciamo, poi risultano troppo, secondo me, oppressivi, ecco. Poi ci fa vedere che sul tavolo lei ha messo un centrotavola peloso, rosa, e in mezzo a questo centrotavola ha messo, che c'era un buco, praticamente, nel centrotavola, ha messo un alberello di Natale con gli ornamenti rosa. E questo centrotavola, lei l'ha messo come centrotavola, ma dovrebbe essere un tappetino che si mette sotto l'albero di Natale, praticamente. Comunque, ognuno fa quello che gli pare, l'ha messo come centrotavola. Dopodiché ha fatto vedere l'albero, rosa. Sotto questo albero c'erano le rene, la famosa rena che gli hanno regalato, rosa. Poi lei ha comprato un'altra rena con le corna, rosa. E questo albero, praticamente, ribadisco, rosa, molto grande, aveva delle luci, praticamente, rosa e gialle. Però il giallo, praticamente, con il rosa, dava un po' un colore aranciato, diciamo. Perlomeno a me è perso così. Poi, insomma, ha fatto vedere gli ignomi rosa. Ha fatto vedere, praticamente, il sopra del caminetto, come era addobbato. Secondo me anche lì troppi addobbi, però, voglio dire, se piacciono a lei va benissimo così. E poi, praticamente, ha fatto vedere i nuovi acquisti per Natale. Quindi, nuovi ornamenti per Natale, tra cui una bambolina rosa, un altro gnomo e altre cose. Allora, innanzitutto, io, siccome nella live, poi, di Davide, Davide dice che, praticamente, si è stancato di vedere questi ignomi. Allora, io penso questo. È vero che, quando si fa, si adorna, diciamo, la casa, di solito è la donna che se ne occupa, quindi è la donna, diciamo, che sceglie quello che, secondo lei, ritiene più bello, diciamo, per adornare la casa. È anche vero, però, che se nella casa abitano insieme a te altre persone, magari bisognerebbe tener conto anche un attimino del loro di gusto. Ad esempio, per quanto mi riguarda, se io dovessi abitare con una persona che ama così tanto il rosa da mettermelo dappertutto, cioè, io penso che alla lunga, cioè, non voglio dire che sclererei, però, insomma, comunque mi darebbe tanto, tanto, tanto fastidio. Perché posso capire, ripeto, un oggetto rosa, due oggetti rosa, che magari possono dare un attimino anche un certo fascino, chiamiamolo così. Però, l'effetto bomboniera con tutto quel rosa, sinceramente, è assodato, cioè, è così. Poi, lei, praticamente, ha detto che ci saranno, che dovrà fare altri spacchettamenti, evidentemente, di altri oggetti comprati per Natale, ha già, diciamo, fatto capire che ci saranno anche altri ignomi, e, vabbè, evidentemente c'è spazio da occupare e quindi, benvengano questi ignomi. Per quanto riguarda la live di Davide, io vi dico subito che non l'ho guardata tutta, perché sono tre ore di live. Quindi, tre ore di live con una persona che, sinceramente, non ha nulla da dire, sinceramente non mi sono sentita di affrontarla, ecco. Ho visto soltanto l'inizio dove lui sparlava dei contenuti di TikTok, diceva che, secondo lui, TikTok dovrebbe essere un social che andrebbe chiuso, praticamente andrebbe chiuso come social, perché? Perché ci sono le challenger che, secondo lui, se le fanno anche i bambini, possono essere pericolosi. Io posso essere d'accordo con lui, ma anche su YouTube ci sono delle persone che fanno cose pericolose e i bambini comunque lo possono vedere. Ci sono anche dei bambini che seguono degli YouTuber che sono un po' così e quindi anche quello può far del male alla lunga perché questi YouTuber possono comunque dare degli esempi negativi e quindi anche quello può far male. E poi parlava di gente che praticamente su TikTok parlava a sproposito tipo praticamente c'era per esempio una signora che pare avesse il figlio in condizioni critiche e gli hanno detto gli utenti di staccare la spina a questo bambino e di farlo smettere di soffrire. Che cosa ha detto lui? Allora secondo me comunque ci sono dei commenti che andrebbero veramente rivisti nel senso che comunque c'è tanta gente che parla giusto per parlare però anche Davide ha dato del suo nel senso che ha detto che comunque secondo lui l'eutanasia è una cosa sbagliata che secondo lui praticamente che lui non avrebbe assolutamente non lo farebbe assolutamente perché poi diciamo ne soffrirebbe in sua coscienza diciamo non sarebbe in pace con la sua coscienza e qui posso anche capirlo insomma però bisogna anche rendersi conto che ci sono persone che soffrono e persone che vedono i propri cari soffrire e non soffrire a lungo termine proprio perché magari queste persone sono in uno stato vegetativo perché perché sono sono lì sono buttati sono ormai sono persone che non vivono ecco che non vivono quindi magari decidono di staccare la spina fra virgolette cioè anche a questi genitori non puoi dire che secondo te l'eutanasia è sbagliata perché tu la dovresti vivere sulla tua pelle e poi magari decidere da farsi insomma e poi ha detto ha parlato sempre del reddito di cittadinanza che un signore praticamente è un signore che percepisce il reddito di cittadinanza avevano offerto mille euro per tre mesi di stage chiamiamolo così e poi l'avrebbero assunto praticamente a tempo indeterminato e questo come lava piatti e questo signore praticamente ha rifiutato lui ha detto che avrebbe subito chiesto dove posso firmare ci crediamo tutti che lui subito avrebbe detto dove posso firmare ci crediamo che lui praticamente sarebbe stato otto ore in piedi a lavare i piatti questo è sicuramente un dato di fatto perché lui praticamente fa così a lui piace lavorare e si vede devo dire e quindi subito avrebbe preso la palla al balzo che altro poi praticamente come al solito suo bannava bannava anche a cavolo cioè diciamocelo c'è stato un momento che ho trovato esilarante quando praticamente lui ha detto che c'era un utente che ha fatto una battuta sulla razza praticamente il pesce e quant'altro e lui ha detto che praticamente questa persona era un deficiente che si alzava la mattina che non faceva nulla con le mani in mano insomma che si dirattava il culo tutte queste cose qui al che gli hanno fatto notare guarda ti sei descritto effettivamente è così perché praticamente è lui e niente io poi sinceramente non ce l'ho fatta personalmente sono contenta perché sono riuscita a dar via l'albero l'albero di Natale e c'era una persona che ne aveva bisogno che non voleva spendere che non poteva spendere soldi per comprarsi un albero e quindi ho dato il mio e anzi sinceramente spero che abbia bisogno anche di qualche ornamento così magari mi libero anche di quelli anzi Chiara guarda se ci sei se vuoi qualche ornamento di Natale io sono qui sappi però che non ne ho rosa assolutissimamente quindi io amo il Natale quello diciamo normale fra virgolette quello tradizionale quindi i colori che mi piacciono per il Natale sono il verde il rosso e loro non vado più in là di così avrò una mentalità chiusa però per me il Natale è quello e quindi niente così almeno ho fatto un po' di spazio e sono contenta io vi saluto vi ringrazio per avervi ascoltata lasciatemi qualche commento iscrivetevi al canale se vi fa piacere mettetemi un like se vi fa piacere e datemi qualche consiglio per quanto riguarda il mio canale sono sono veramente ben accetti e sinceramente ho voglia di di scoprire di sapere che cosa vi potrebbe far piacere ecco un abbraccio a tutti e ancora ciao